Alex, SISCHI! SISCHI, SISCHI, SISCHI! Cioppa! Mi stanno facendo dire le parole con cioppa! Cioppa! PISCA! SISCHI! SISCHI! SISCHI, SISCHI! Gaetano! SISCHI, PISCHI! Sembra Mississi! SISCHI! SISCHI! PISCA! PISCA! Ciaccarellina! SISCHI! SISCHI! Allora... Mamoka Mamma! Jopa! 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 Jaiibu! Jaiibu! Jaiibu Jopu! Jaiibu Jopu! se li hai detto? Cosa faccio io? Attualmente... Jaiibu! Te liubes PISCA! Te liubes PISCA! Te liubes PISCA! SISCHI! sì, sì sembrava quelli di me di insubdo, posso fare io qualcosa? tu lo chiedi, lui risponde ti piace giopo? ti piace giopo? no 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 aspetta coccobello, coccofresco niam, niam, niam allora... Gaitano 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 ti piace Sisk? eh... sì ragazzi, questo può scegliere cosa ha chiuso a chiedere, sigarette, champagne che ti piace come ti piace Qualche parolaccia pesante, parolaccia pesante, parolaccia pesante, mi dici pesante, mi dici frigorifero, boja, parolaccia pesante, boja, 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 è come se Francesco che cosa è? Bodia, a diminutivo, a diminutivo, curva, 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 si sa curva, era curva prima di te, te lascia sdruve, tu gli dici, te iobus, te iobus, shlondra, 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 ma si va a buffarne parolo, shlondra, 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 shlondra.